Ciao amici, buongiorno a tutti, eccoci qui nel 2024. L'anno è iniziato e ovviamente anche noi, per facilitarvi le vostre ricerche, abbiamo reorganizzato questa pagina che andrà a facilitarvi sia la vostra ricerca e anche il vostro viaggio verso Chisina e anche Romania. Allora, se siete su questa pagina, se guardate questo video, significa che volete organizzare il vostro prossimo viaggio, per questo noi vi veniamo in aiuto come al solito. Quello che dovete fare è molto molto semplice, praticamente qui troverete tutte le dati disponibili per tre mesi in avanti, sia per Namoltawe che per Romania, come al solito dalle aeroporti sia d'Italia, ma anche aeroporti d'Europa, che sappiamo sicuramente che i nostri pazienti prenderanno un volo da lì. Ora vi spiego come funziona. Allora, praticamente potete vedere ora, abbiamo viaggi in compagnia per la Moldavia. iniziando da Milano Malpensa, cioè come posto Milano Malpensa, iniziando dalla data di 6 febbraio si arriva fino al 9 di aprile, quindi abbiamo qui le date per i prossimi tre mesi, ovvero febbraio, marzo, aprile. Sempre qui per la Moldavia troverete voli da Milano Bergamo, troverete voli da Roma Fiumicino, da Roma Fiumicino iniziano dal 1 di febbraio, il 4, l'11, il 14, il 15, 17, 18, 19, 21, 22, quindi fino al 3 di aprile. Però una cosa importante è che noi aggiungiamo ogni giorno nuove tratte, nuove date, quindi se magari entrate oggi, non so, non vi conviene una data di quelle già presenti qui, potete riorganizzarvi nel senso potete entrare anche domani, dopo domani, che sicuramente sarà una data nuova. Però è molto importante di organizzarvi in fretta il prima possibile perché dopo le feste ci sono tantissime richieste, tantissimi pazienti che vogliono iniziare o finire le loro cure. Allora, sempre qui ci siamo fermati a Bologna, poi abbiamo Venezia, Verona, Parma, Torino, Alghero, Cagliari, Roma, Ciampino e come al solito abbiamo anche altre città d'Europa, in questo caso possiamo trovare qui pazienti che partono da Londra, da Düsseldorf, da Istanbul, Francoforte, Varsavia, Vienna, Pesel-Milchhaus. Ovviamente i nostri pazienti non viaggiano insieme soltanto in Moldavia, ma viaggiano in compagnia anche quando vanno in Romania, ovvero Bucharest o Brasov. Così abbiamo messo qui le date anche per i pazienti che vogliono organizzarsi le loro cure per Romania, iniziamo da Alghero, poi ci spostiamo a Milano-Malpensa, anche per la Romania vale la stessa cosa, abbiamo pubblicato qui le date per i prossimi tre mesi, ovvero anche per la Romania fino al mese di aprile. Ok, Bergamo, abbiamo Roma-Fiamicino, Roma-Ciampino, Bologna, Pisa, anche Pisa sempre abbiamo date sia per febbraio, per marzo, per aprile, per Torino, per Venezia, abbiamo viaggi da Napoli, da Basilea, da Bari, Catania e ovviamente anche da altre città europee in cui sappiamo sicuramente che in questa data che vedete qui, ad esempio il 19 febbraio, sappiamo sicuramente che ci sarà un minimo di una persona che parte da Londra, ora non vi posso dire proprio di sicuro quante persone ci sono, però una volta che avete scelto la data, ad esempio se volete partire da Bruxelles e per voi va bene la data di 20 febbraio, quello che bisogna fare è cliccare su Apri Chat Piaggi di Gruppo e vi collegate in modo automatico con le mie colleghe e loro vi daranno tutte le informazioni necessarie di quanti persone partano, a che ora, magari vi possiamo aiutare con un punto di incontro dove vi potete incontrare e noi sapete bene che possiamo organizzarvi il viaggio, tutte le domande in quanto riguarda i documenti, tutto quanto riceverete semplicemente cliccando su Apri Chat Viaggi di Gruppo. È molto importante di organizzarvi il prima possibile perché, come detto anche prima, dopo le feste ci sono tantissime richieste, tantissime persone che vogliono iniziare o finire le loro cure. Questa cosa vale sia per la Moldave che per la Romania. E poi ovviamente anche i biglietti aerei sappiamo bene che prima li prenoti meglio è. Come vedete per Bucarest ci sono tantissime città europei da cui partire, ad esempio vi dico Malta, Nizza, Berlino, Amsterdam, Luxemburgo, Zurigo, Dortmund, Belgrado. Quindi è molto semplice. Una volta che vi siete vi siete organizzati, decisi, scegliete la vostra data, tutte le date che vedete qui su questa pagina qualsiasi data scegliete, sapete che sicuramente non sarete da soli. La data e le tratti che mettiamo qui, che vedete su questa pagina, significa già che c'è qualcuno che viaggia in questa data. Quindi potete avere la certezza che qualsiasi data scegliete non volerete da soli ma in compagnia e sappiamo che in compagnia si viaggia molto meglio. Noi aspettiamo i vostri messaggi, le vostre richieste e qualsiasi domanda, come ho detto anche prima, la potete risolvere su Apriciat Viaggi di Gruppo e noi vi aspettiamo. Un saluto a tutti e buona giornata. Ciao!